Ben ritrovati con il Comizio.it per parlare delle elezioni comunali del 3 e 4 di ottobre. Il voto è imminente, sono tanti i comuni, grandi e piccoli, che andranno alle urne. Noi abbiamo oggi ospite un candidato al Consiglio Comunale di Vimercate, provincia di Monza e Brianza, Matteo Trassini. Molto lieto di essere qui. È un piacere nostro, siamo curiosi di conoscere quella che è la realtà di Vimercate e quello che è il suo impegno di candidato consigliere. Innanzitutto è candidato nella lista della Lega, che sostiene, come tutto il centrodestra, il candidato sindaco Giovanni Sala, che non ha parentele con altri Sala più noti al grande pubblico. Dunque, parliamo di Vimercate, di questo Comune, che ha una sua rilevanza nella provincia di Monza e Brianza. Parliamo di quelle che sono le problematiche attuali della storia recente, dell'amministrazione uscente e poi dopo vedremo il re. Sì, un Comune di grande rilevanza, 26 mila abitanti, altri 26 mila abitanti, ma soprattutto un po' il fulcro di quello che è sempre stato chiamato il Vimercatese, perché a Vimercate sono stati tanti servizi utilizzati e fruiti anche da tanti paesi limitrofi. Quindi l'importanza particolare, proprio anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale, di saper erogare e gestire quei servizi nel modo migliore. Vimercate negli ultimi anni, ma non solo negli ultimi, diciamo negli ultimi vent'anni almeno, è andata purtroppo piano piano spegnendosi, anche e soprattutto per qualità dei servizi resi alla popolazione. Oggi lo possiamo notare anche con sporcizia, con manutenzioni non fatte, anche la manutenzione ordinaria. Per cui oggi sono dei problemi molto molto gravi, ai quali si sono aggiunti quelli di una microcriminalità che è comunque in aumento, ad altri fenomeni come quelli tristemente noti, che sono andati anche sui giornali locali molto spesso, di imbrattamento di muri, di degrado generale, soprattutto nella zona della cosiddetta Movida. A me non piace tanto questo termine, però rende l'idea. Questo fa sì che si devono prendere misure molto urgenti e importanti. Ecco, ripercorriamo brevemente quella che è la storia amministrativa di Vimercate, del Comune di Vimercate. Vimercate ha una sua tradizione politica, chiamiamola così, che è stata interrotta qualche anno fa, cinque anni fa, dalla vittoria del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Ecco, ci racconti brevemente che cosa è successo? Sì, dopo una lunga, dopo sosseguirsi di governi di centro-sinistra, il candidato 5 Stelle è attualmente sindaco, cinque anni e mezzo in realtà, perché poi si sarebbe da tutti andare al voto a maggio, quindi sì, legislatura che è andata avanti, ha vinto per pochissimi voti al ballottaggio e secondo il mio parere la sua squadra non era preparata, non era pronta per gestire questo tipo di impegno, soprattutto per quanto riguarda le persone, i vimercatesi presenti in lista e che poi hanno avuto la possibilità di diventare assessori o comunque di collaborare con il sindaco. Questo si è visto, si è visto perché in comuni grandi o piccoli, se uno non vive la realtà del paese, non vive la realtà della città, difficilmente può cogliere ed essere in sintonia con quello che realmente i cittadini hanno bisogno. E questo si è visto tantissimo e purtroppo il prezzo lo paghiamo ancora oggi. Ecco, dunque c'è una critica sulla competenza specifica del personale politico-amministrativo dell'amministrazione uscente. Ecco, voi sia come lista della Lega, sia come coalizione che sostiene Giovanni Sala, pensate di avere dei profili professionali, civici e potenzialmente di buoni amministratori? Lei, sappiamo, è un imprenditore, poi vedremo quelle che sono le sue competenze specifiche, quello di cui andrà a occuparsi una volta eletto. Questa differenza si può percepire? La differenza si percepisce da subito, prima di tutto per l'impostazione. Finalmente tutto il centro-destra si presenta unito e questo è fondamentale. Solo così si può pensare di poter vincere. Al di là di questo abbiamo avuto tutte le liste che sostengono Sala, che per primo, primo fra tutti, è persona competente di grande esperienza, anche in ambito politico-amministrativo. Tutte le liste hanno saputo raccogliere personalità importanti, competenti e con grande entusiasmo e anche questo è fondamentale. Abbiamo veramente la qualità media di tutte le liste del centro-destra veramente alta con profili professionali di grande rilevanza. Questa è la cosa più importante. I bimercatesi che conoscono la città perché ci hanno vissuto, perché ci vivono adesso, perché hanno una rete diffusa di parenteli e di amicizie e quindi hanno avuto modo in questi anni e l'avranno ancora di più poi, una volta raggiunta l'amministrazione, di poter intervenire su quelli che sono i nodi cruciali della vita del Paese. Ecco, una delle sue competenze specifiche è quella dello sport, in quanto è un dirigente sportivo, è un uomo di sport da sempre e bimercate e ha, da questo punto di vista, dei problemi piuttosto seri. Moltissimi problemi, a partire dalla piscina che è ormai chiusa da più di 5-6 anni, che ormai è inutilizzabile e anche lo stato di degrado è tale per cui non è pensabile di fare una semplice messa a norma o un maquillage, va proprio ripensato e rifatto integralmente. Né l'amministrazione uscente né tantomeno quella prima, dove in realtà sono iniziati i problemi più gravi, hanno saputo mettere in mano questo problema che poi si è ingigantito in modo tale da appunto costringere alla chiusura immediata per inagibilità e adesso se lo vedeste è un rudere, è un rudere che va completamente abbattuto e rifatto. Questo è un vero peccato perché l'impianto natatorio era uno dei più belli, parlando quando ero giovane io, fino a una ventina d'anni fa, quindicina d'anni fa, ed era fruito da moltissime persone anche dei paesi vicini, sia nella parte di piscina scoperta, molto attrattiva d'estate perché poi è in un bel posto, sia poi la parte invece di piscina coperta dove c'erano anche gare agonistiche di nuoto, di pallanuoto e oltre ai corsi, quindi è veramente un peccato ed una carenza che si sente molto in città. Insomma diciamo che il mercato è una cittadina sicuramente che ha delle potenzialità, che ha delle risorse non sfruttate e voi direte naturalmente che andranno rilanciate con una nuova amministrazione. Sì, c'è anche il problema degli spazi a coperto per attività come pallacanestro e pallavolo sono assolutamente inadeguati, gli impianti sono vecchi, poi chiaro non si può fare tutto subito, però è certamente indispensabile la costruzione di un palazzetto dello sport. Noi abbiamo fatto un progetto per cui, e l'abbiamo inserito nel nostro programma, di un palazzetto dello sport pulifunzionale che possa non solo essere utilizzato per le competizioni sportive, ma che possa essere fruito anche per fiero d'eventi, come devono essere gli impianti moderni oggi. Oltretutto crediamo, e io lo credo fermamente, che proprio dallo sport possa partire il rilancio della città, da uno sport che faccia sì di poter essere sentiti accolti e accuditi tutti i cittadini, anche quelli più deboli, anche le persone più fragili. Tanto è vero che pensiamo proprio che tutti gli impianti debbano essere non solo, come deve essere per legge, fruibili per tutte le persone con difficoltà motoria, ma che siano anche pensati per gli sport paralimpici. Quindi crediamo molto che il mercato debba diventare inclusiva anche in questo atteggiamento. Così come pensiamo che proprio a partire dal centro sportivo che ci immaginiamo con una bella piscina coperta scoperta, dove c'è già un campo di calcio con una società emergente e dove speriamo di poter costruire un palazzetto dello sport moderno e funzionale, da lì possa partire anche una rete di ciclabili con un parco che attualmente non è reso fruibile al pubblico e quindi possa permettere così un po' una rivoluzione anche nel fruire la città. A partire dallo sport, facendo degli eventi, ci sarebbe spazio anche per le famiglie, sarebbe veramente, crediamo che anche da questo punto di vista si possa un po' parlare di un futuro di mercata turistica, non come turismo in senso stretto, ma più in senso lato come attrattività generale per il sport all'aria aperta. Bene, io ringrazio Matteo Trassini, candidato al Consiglio Comunale di Vimercate nella lista della Lega a sostegno di Giovanni Sala, Sindaco. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento è con i prossimi approfondimenti del Comizio.it anche per quanto riguarda il voto per le elezioni comunali del 3 e 4 di ottobre.